Fondiamo un partito politico e ci candidiamo alle elezioni amministrative del 2023. Parole, quelle di Vittorio Sgarbi, ne visita venerdì sera al ristorante La Macelleria di Pesero per supportare e rafforzare la battaglia politica di Umberto Carriera, ristoratore e fondatore del movimento IoApro. Sgarbi che traccia la linea con convinzione. Ora si parte, il partito si chiamerà IoApro al Rinascimento, il 25 febbraio si organizzerà in assemblea a Roma e a metà marzo sarà pronto al confronto con gli altri leader politici italiani. Il panorama è questo, i partiti sono nelle condizioni in cui sono, salvo forse la Meloni, sono tutti al governo con Draghi, che è una persona seria ma piena di limiti e voi vi ricordate che uno che è un po' più vecchio di me, che ha fatto molto spettacolo, ha fatto il 33%, si chiamava Grillo, non aveva un cazzo da dire, era ignorante come una capra, insultava la gente e però in nome di una protesta legittima, ora se gli ha presi lui quei voti, noi che abbiamo, non solo il fatto che io sono il più vecchio parlamentare, sono lì da quando ero bambino, sono l'unico che sta in piedi insieme a Casini, ma io sto in piedi meglio e quindi ci sarà una ragione, vuol dire che ho fatto meno errori, ho detto va a far culo anch'io, quindi abbiamo le cose in comune. Tutti i voti di Forza Italia, anche lì dove vanno e quindi Carriera con Io Apro ha dato la prova che nel momento in cui era difficile parlare, oggi me l'ha detto un comunista di Suttio, sono sindaco lì che è dalla mia parte adesso, che dice tutti dovrebbero riconoscere che lei era l'unico fin dall'inizio a dire che tutte queste misure erano sbagliate, ma lo erano non in quanto misure sanitarie, in quanto misure di autoritarismo, non andare a sciare, ma che cazzo sei? Non andare in bicicletta, ma che cazzo sei? Ora quando arrivano poi i vaccini, quando arrivano le medicine, uno le prende, io le ho prese, non devo contestare, io ho mille malattie e mi fido dei medici, però non mi fido dei governanti che fanno i medici, ed è anche dei medici che fanno i governanti. Allora la Carriera è stata coraggiosa, è diventato un simbolo, io apro, è un bellissimo nome, perché poi io apro, vuol dire non solo io apro i ristoranti, ma io apro la vita, apro la novità, apro al tentativo di risolvere alcuni problemi. ...la gente al voto, i giovani al voto, perché la gente non va più a votare, le ultime amministrative il 52% dei italiani non ha votato, riportiamo le persone al voto, e le persone sapranno scegliere chi ha combattuto e chi ha resistito negli ultimi due anni. Fondazione di partito arrivata all'indomani della vittoria in Tribunale di Carriera, che si è visto ritirare la multa di 800 euro per la chiusura del ristorante La Grande Bellezza di Monbaroccio, in una cena dello scorso 15 gennaio 2021, alla presenza dello stesso Vittorio Sgarbi, all'epoca in cui il DPCM Conte obbligava i ristoranti a chiudere il servizio al tavolo alle ore 18, sanzione che è stata annullata dalla magistratura di Pesaro. Avevamo ragione noi, ha fatto dieci multe a me, il mio avvocato, che non voleva soltanto dare la vittoria, dice che ha fatto ricorso per non pagare le multe al prefetto, il quale prefetto poi ha osato farle a me, è che essendo un deputato avevo la libertà di movimento garantita dal Parlamento, che dice che i parlamentari non hanno limiti di movimento, però una cosa è il movimento, loro mi hanno multato perché io mangiavo, io non devo mangiare? Io la sera devo fare digiuno? Perché mai? Quindi la cosa che volevo dirvi adesso, a parte che forse è già abbastanza, è che avevamo ragione, è che era illegittimo chiudere, quindi ha fatto bene Carriera, vero leader, futuro sindaco di Pesaro, a dire io tengo aperto, perché era una cosa civile, a dire io tengo aperto, perché era una cosa civile,